La Guardia di Finanza del Comando Provinciale Reggio Calabria, in sinergia con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Giulia Tauro, con il costante coordinamento della Procura della Repubblica, direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria, diretta dal procuratore Giovanni Bombardieri, ha sequestrato oltre 270 kg di cocaina purissima al porto di Giulia Tauro, in un contene trasportante cotone in transito nello scalo calabrese proveniente dal Guatemala e avente come destinazione finale Valencia. Sono stati individuati e sequestrati i 270 kg di cocaina suddivisi in diversi cartoni di ananas, i quali avrebbero fruttato una volta tagliati fino a quattro volte ed immessi sulle piazze di spaccio italiane ed europee per la vendita al dettaglio, circa 55 milioni di euro. Attraverso una complessa attività di indagine, seguita tramite analisi di rischi e discontrati fattuali da parte della Guardia di Finanza su 2.000 contenitori provenienti dal Sud America e supportati dalle sofisticate apparecchiature scanner in dotazione all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, è stato possibile selezionare il container positivo contenente il prezzo sorobianco, occultato tra la merce lecitamente trasportata e pronto per essere recuperato dai destinatari del carico. Le fiamme gialle regine ed i funzionari doganali non abbassano la guardia, svolgendo quotidianamente stretta sinergia e con la costante direzione della Procura della Repubblica, un'intensa attività di controllo sulle merci in arrivo o in transito per rendere sempre più efficace la lotta al traffico internazionale di cocaina, per il quale, nonostante i numerosi sequestri effettuati, viene ancora utilizzato anche il porto di Giorgia Tauro.